come non si sente niente ho parlato a vanvera incredibile sei muto e infatti stavo dicendo mi ricordo quella volta che dopo aver sbattuto il linguine ho perso l'uso della parola per per un mese e vedi calza a pennello perfetto salve salve mi sentite adesso hai il muto buono allora allora che guardiamo io adesso ragazzi voglio imparare il brasiliano mi sembra che sia necessario come lingua secondaria anzi come lingua primaria secondaria sarà l'italiano guarda dottor nosarandam è malati di risparmio dai va bene va bene non so se a livello di come si chiama di 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 copyright ci siamo però prima guardiamo questo trailer prima fermi 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 wow bello grafico bello lo stile no è un gioco no è un gioco a turni a ruolo tu no no ho letto gorizia ma che sta cagato mamma mia cracking che ma non è educativo vabbè ci hanno provato bello però l'impatto visivo artistico dnd ma insomma borderlands 4 non credo proprio quindi malati di risparmio vediamo un po oppure guardiamo il video la console per bambini che non conoscevo slash magazzino tm yotobi games tra l'altro ha messo veramente il tm di marchio registrato sulla parola magazzino vai karim allora aspetta un attimo aspetta vi faccio vedere anche quest'altro ma questo 21 minuti di gioco allora no non vi faccio vedere 21 minuti di gioco però vi faccio vedere questo questo pezzettino di gioco qua sostanzialmente si tratta di un gioco che si ispira scorn ne sta per uscire un altro bene molto bene ci butta un occhio un po troppo vicino un po troppo vicino solo che questo diversamente da scorn è fatto male ovviamente di cose però magari avrà una componente action un po pochino più preponderante non si sa però vedete a questo questo rimando qui se esce gradirei giocarlo quindi probabilmente lo porteremo non ripeto non sarà come scorn ma male non può fare si chiama scorn 2 no non si chiama scorn 2 non so come si chiama ragazzi necrophosis ho avuto leggermente paura è uscito un nuovo trailer di amanda the adventurer attenzione scusate attenzione la demo sta per arrivare next fest giugno 10 giugno 17 ragazzi non so i mesi fate voi calcolate voi tra quanto tempo molto bene molto molto bene allora malati di risparmio vediamo un po' l'avete voluto voi io non c'entro niente malati di pulito no fa cagare malati di risparmio o figa canali in diretta film e programmi on demand sponsorizzato tutto gratis spluto tv wow quindi se clicco qua parte la pubblicità c'è parte che cosa cazzo ho aperto andrea ha paura questo l'abbiamo già visto che spav... fe! no fe fe! cos'è sta roba? aiuto! ma è un video? con una roba simile ma cos'è? aspetta non so se l'abbiamo vista sta puntata scopriamolo insieme malati di risparmio stagione 3 episodio 7 gemi e justin buono aspetta via ma che è sta roba? i soldi fanno girare il mondo vorrei sostituire tutto il mio prato con una roba simile ma i risparmiatori più accaniti mi servono dentifricio fazzoletti e un asciugamano e un po' di eroina riciclano chiedono e frugano comunque gli ha dato dell'eroina davvero quindi non ho capito sarà una roba in codice risciacquarsi ad esempio l'acqua non è certo sufficiente no e che cazzo dovresti usare per risciacquarti scusami perdonami eh l'acqua raggia vabbè si può alzare un po'? assolutamente no risparmiare riutilizzo la lettiera del gatto tutto questo ha malati di risparmio bella casa di plastica risparmiano gli americani lei è malata ok presentazione ottima lo stesso colore dei fiori la signora la signorina cappello da giardinaggio i fiori sono di plastica non dirmi che i fiori sono di plastica se scopro che i fiori sono di plastica se i fiori sono di plastica e tu li stai innaffiando li sta pulendo questi a volte si sporcano e vanno spolverati un pochino nel mio giardino metto solo fiori finti perché non sono troppo impegnativi spero ti venga una malattia finta ma l'hanno finto di Deveni ma che cazzo dici ma 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 questo questa l'ha usato una volta lo spray l'ha inalato per errore e questo è il risultato i fiori finti potrebbero conservarsi anche per dieci anni sono fiori di plastica quando l'umanità scomparirà per le guerre atomiche quei cosi ci saranno ancora signora giro di dieci anni potrei arrivare anche a spendere mille dollari eh ma che dice i fiori finti muoiono e devi comprarne di nuovi e ripiantarli ah dice che spenderebbe fino a mille dollari anche una farfalla finta molto bene ma il cameraman non può tirargli un ceffone finto riprenditi che è? io non farei mai una cosa simile se fossi da solo ma mi piace cosa ti piace? secondo me i vicini non sanno che i miei fiori sono finti il marito è vuoto in faccia è imbarazzatissimo questi fiori sono molto interessanti molto bene inverno ti ritrovi spesso a spalare la neve poi guardi di là e vedi quelli ma questa qui non è la vicina di casa di Edward Mani di forbice è invecchiata ma è lei o sbaglio? adesso c'è un pirla dietro con i capelli sfatti e le mani a forbice che cammina in mezzo al bel non è non è lei è uguale com'è che si chiamava? quella fissata con la chiesa vi ricordate? è uguale plendi di fiori gialli in pieno inverno nel mio giardino in pieno inverno non ha ancora capito che sono di plastica bene non so chi sia più scema a sto punto se è questa che è annaffia di fiori di plastica o se è quella che pensa che i fiori siano veri il marito realistico figli ovviamente a risparmio non ce li ha sono una sua fantasia cos'è? dormono sul cartone i bambini? no ti odiano fidati ti odi ti detestano hai creato tanti di quei problemi a questi bambini non ha più il coci generalmente uno scivolo vero costa circa mille dollari e la madonna signora ma dove cazzo vive? i cartoni invece sono del tutto gratis costano 500 dollari non è proprio un'ossessione ma vuole ricavare il massimo da ogni cosa mamma mia mamma vuoi prenderla? vieni brava 100 euro su amazon ah un bambino costa così poco ma nulla di illegale tipo fare copie dei film o pescare monetine da una fontana e tantomeno rubare ah quindi lei dice giusto risparmiare ma no alla pirateria e no al insomma a rubare però il commercio di organi quello si sono una risparmiatrice creativa riutilizzo qualsiasi tipo di materiale no 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 cosa sta facendo con la sabbia della lettiera del gatto? di merda di merda no è fatta di merda signora è fatta di merda ricavare l'argilla dalla lettiera usata si ma deve rimuovere le feci signora non può fare un vaso di feci signora si fermi aggiungo l'acqua signora cosa sta facendo signora che schifo l'argilla è molto costosa 20 chili costano tra i 70 e i 100 dollari che è una palla di merda hai in mano una palla di merda fermate ricavare l'argilla dalla lettiera usata risparmio centinaia di dollari l'anno e posso farci qualunque cosa cosa? cosa? cosa puoi farci? un funerale normale può costare fino a 10.000 dollari un funerale normale? di che sta parlando? una lapide personalizzata parte dai 2.000 dollari ma che sta dicendo? una lapide sta facendo una lapide di cacca quindi ne faccio una a costo di chi è Jamie Gay? chi cazzo è Jamie Gay? la lapide di mia moglie ma lei è una donna piena di risorse ma si sta facendo una lapide con della merda? è la sua lapide? no scusami non sto mica capendo chi cazzo? ma si è messa già la data di morte 1978? no ma non è una donna piena di risorse e trova sempre nuovi modi per risparmiare è una donna piena di risorse e trova sempre nuovi modi di risorse ma per me non lo è credo che sia una buona idea e farà risparmiare molto ai miei figli quando verrà il momento ma cos'è? ma è una statua di Pasqua la Pasqua del stato di Testa tenere un giardino costa fino a 500 dollari ma sembra che viva a Legoland ma fa paura Lego Movie ma non può passare un tornado a caso che gli spazza via tutto ciò che ha così veramente ha risparmiato completamente la figlia straespiaggiata lì sul fitto giardino è spettacolare ma come cammina? hai finto è finto anche lui ok ma sono dei pazzi furiosi gli americani cioè letteralmente gli sta vendendo una moquette per esterni cioè c'è scritto outdoor carpet sono tappeti per esterno ma che malattia hanno? i miei bambini possano giocare certo questo forse è il più soffice che abbiamo me lo consiglierebbe ne abbiamo due ne ha due signore uno è marrone l'altro è verde se lo vuole verde per far sapere quello verde che è successo? 12 metri che sta dicendo? no aspetta perché l'hai rimasto senza parole? venduti diversi secondo me questo è un ottimo prodotto in realtà vorrei rivestire l'intero giardino alzo il volume che l'intero giardino 12 metri per 12 metri caspita questo è insolito sta parlando di sostituire tutta l'erba caspita questo è non lo può fare non so esattamente qual è il suo budget ma 100 donne ah l'altra per la vicina dici? per le misure che mi ha fornito Jamie la cifra va da almeno 30 milioni si chiama Mark Tocket è il manager di cosa? scusa dell'erba finta vabbè ma è incredibile sto esponenzialmente alzando il volume perché non sento un'h ma che è? ma quello è cuoio di vecchia questa è pelle umana riciclata che cos'è sta roba? non è verde quindi userò la mia creatività e userò delle sterpaglie e foglie secche da mettere tra i fiori ma le foglie secche non sono verdi prego non c'è di che per realizzare il mio prato artificiale devo riuscire a rimediare più pezzi di erba artificiale possibili ma che sta dicendo? da tanti posti diversi no 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 scusa un mini golf che forza volete giocare? no siamo qua per l'erba signora ecco in realtà oggi non siamo venuti per giocare ma scusami allora o lei è bassa o quella è alta che sta succedendo? perché lei è alta come i suoi figli e questa qua è alta 3 metri e mezzo? volevo sapere perché è mini golf quindi lei si cerca di non lo so ne abbiamo già messo un po' nel nostro giardino ma è una gigantessa riuscire a rivestirlo tutto risparmiare è una navi però è interessante navi fatemi vedere cosa abbiamo ci provo va bene sì grazie lei è la figlia dei figli ho sentito che con un campo da 18 buche dovevano avere per forza degli scarti pensiamo di rimuovere questo prato tra un paio di giorni per sostituirlo bene posso dargli un'occhiata? oh chieres è staccato la colla ha ceduto sì ma non è che ma lo devi stradicare tu lo porti via assolutamente 2000 dollari 2000 dollari a strappo se vuole l'aiuto dovrà farlo da sola se vuole l'aiuto questo è il potere delle telecamere non ci fossero state le telecamere l'avrebbe presa a calci in culo o l'avrebbe colpita forte con una mazza da mini golf io ve lo dico è palese non romperlo mi bruciano i piedi sarei curiosa di vedere come verrà ma cosa? la follia di quella donna? insomma è un po' strano io non lo farei mai gratis sì sì concettualmente l'idea comunque di mettere alla reception una receptionist gigante ti fa concepire diversamente gli spazi del mini golf quindi tu dici cazzo che palle non posso permettermi di andare al golf nel club di golf ma posso andare al mini golf vado al mini golf però vedendo una gigantessa mi sento piccolo quindi il mini golf diventa golf è un concetto particolare ragazzi funziona infatti fanno un sacco di soldi questa è l'ultima volta che faccio giardinaggio ma che stanno facendo? stanno rimuovendo l'erba vera per mettere l'erba finta così hanno un'erba verosimile ma per perché? il tomorrone è davvero molto utile è molto facile ragazzi mi sta mettendo un'ansia sembra il modellino che si vede in 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 Beetlejuice il modellino della città di Beetlejuice è tutto finto in sta casa ma sparge un po' di sale Attila ci sarà molto lavoro da fare questa settimana per rifinirlo e pulirlo ma intanto lo stiamo posizionando mi piace il fatto sta pinzando il pavimento non deve essere tagliato giusto non ha spazzato ogni tanto ma che cazzo dite ciao come state? chi è? sembra che sia arrivando una tempesta sì meglio che ti sbrighi con il giardino già diciamo che il loro giardino artificiale mi sembra un tantino pacchiano lo ammetto oh signora io lo avrei fatto diversamente e non avrei usato l'erba finta del mini golf ma non ha neanche una brutta casa è particolare sono loro che sono brutti comunque devo essere sincero probabilmente la prima folata di vento si gonfia come una vela gli sradica via letteralmente tutto il cortile però devo dire che concettualmente potrebbe starci l'idea di non conoscere questa gente e non vederla mai alcuni spendono anche 1500 dollari l'anno per il giardino noi non abbiamo speso quasi nulla buono stiamo andando molto bene risparmiare è diventato così hanno anche l'acqua vedi? furbi lo considero un passatempo un gioco guardate bambini è una piscina non cambierò mai la mia vita di sicuro non si infangheranno più il marito non sa più che cazzo dire non la usiamo cosa? l'acqua è sotto chiave questa è acqua saponata questa è pulita africa l'or non basta sciacquare nulla non mi importa cosa pensano mia madre e mio fratello beh dovrebbe no ma ma che sta succedendo cioè non spende soldi per l'acqua ma va in palestra si come va amico? è disidratato da due anni in quest'uomo Justin usa gli ingressi ospiti gratuiti del mio abbonamento ah ok mi sembrava strano mi sembrava che non si allena perché non è uno che si allena si vede ma per allenarsi e lui fa altro cosa fa? prende l'acqua beh io non mi alleno ok questo lo sanno tutti ci vado solo per le cose gratuite la palestra è fantastica ogni volta che ci vado uso gli asciugamani prendo quelli puliti e lascio quelli sporchi non si batte io li riporto mica li rubo no vabbè ma ragazzi ma non è possibile ma non è possibile ma come fai a permettere una roba del genere ma come fai a permettere una roba del genere ragazzi dai cioè tuo cugino ti entra nella tua palestra con i tuoi clienti a farsi la doccia questo è cento volte meglio della lavatrice è più efficace devi usare le mani la lavatrice non pulisce così bene ti infili sotto e fai il bucato così visto? perfetto è incredibile come la gente con lo shampoo eh non ha alcun senso farlo a casa quando puoi farlo qui gratis beh certo ho staccato la lavatrice e l'asciugatrice quello che è schifo così faccio risparmiare alla mia famiglia tra i 75 e i 100 dollari al mese più o meno beh però effettivamente ha senso 75 e i 100 dollari è sputo bella camicia però no ma non è sua è disegnata l'ha disegnata sopra con dei pennarelli questa non è vedi lui non è vestito in questo momento è un disegno è per risparmio lui l'ha disegnata sopra non è una vera giacca ma certo laviamoci con lo spirito della foresta l'ha disegnata è per i soci della palestra e lui non lo è ogni volta che vado in palestra cerco di non usarlo per compensare l'abuso che ne fa ma picchialo così è ha dei benefici riservati agli ospiti di suo fratello e lo so ma non infrange le regole e non possiamo fare nulla si chiama Kakos questo ragazzo che avete appena visto si chiama Kakos e voi direte Dino ma che dici? guarda si chiama Kakos non infrange le regole e non possiamo fare nulla il 29enne Justin Woodhouse vive a Detroit con la madre e il fratello pur cercando un lavoro a tempo pieno come attuale vendite di tanto in tanto svolge dei lavori occasionali per contribuire alle spese familiari prostituzione ho iniziato a risparmiare sul serio un paio di anni fa quando mia madre mi ha tagliato i fondi ehi caro come stai? tu come stai? non hanno niente non hanno niente e cercare le offerte sui giornali erano cose normali quando ho iniziato a risparmiare signora si rende conto che sono sempre le madri la causa di ogni problema c'è questo è proprio traumatizzato questo gli americani eh no quasi una dipendenza è di famiglia con il tempo la sua voglia di risparmiare è cresciuta ancora e ancora e ancora non so come abbia fatto ad arrivare a questo punto davvero vabbè ragazzi io non so neanche che cazzo dire sinceramente ho iniziato a cercare lavoro c'è però questo non è uno che risparmia questo è un accattone c'è perdonami mio zio ha dei vestiti qua giù e anche mio zio mi sa come cazzo li trovano questi personaggi qua c'è ci deve essere qualcuno della famiglia che chiama al centralino e gli dice guarda ascolta viene a fare da noi la trasmissione perché abbiamo un fenomeno in casa non voglio spendere soldi il costo medio per sistemare un vestito da uomo può aggirarsi tra i 60 e i 100 dollari quindi questo è il vestito di suo zio morto sì ma lui non ha bisogno di niente se c'è un buco nel muro non ha bisogno dello stucco va in bagno caga prende quella e la mette lì tanto considerando che non mangia non mangia niente non mangia fibre perché non vuole spendere mangerà il cartone che trova per in casa e va tranquillo così ragazzi che gli frega oppure si fa dare sì sì si fa dare il gesso di feci dalla signora dalla vicina dalla tira del gatto forse posso stringerlo un po' soprattutto sui fieri l'argilla di feci sì è anche un po' d'onore mio fratello crede di risparmiare soldi requisendo tutto quello che c'è in casa e chiudendolo sotto chiave dobbiamo usare delle fiche da poker e scambiarle con gli oggetti qui non si spreca nulla teniamo traccia di tutto ed è il modo migliore per farlo non vedo un altro metodo Justin ci dà 45 fiche al mese e dobbiamo scegliere con parsimale ma non ci sta neanche quello che ci serve ma che cazzo ridete ma fate partire una rivoluzione quarto di porzione per una fiche basta così dovrebbe bastarti per almeno tre giorni una fiche per una dose di collutorio come tre giorni e se lo usi bene non dovresti avere problemi una volta finite le fiche ma tutti i soldi per la plastica i bicchierini di carta per suddividerle robe non voleva darmelo perché non avevo abbastanza fish da dargli bene bene gli hai dato due cefoni quindi Debo grazie mille per stia saluto Valhalla è incredibile ha otto mesi psichiatria ma è davvero fastidioso è un asciugamano odio andargli a chiedere di usare qualcosa con una fish da poker l'odio ma tu non odi questo tu odi tuo fratello è diverso è diverso che cazzo ti ridi ma sai che non lo so mi sta mettendo dei nervi addosso cioè mi sta dando fastidio ma è allucinante sì 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 comunque Kenny West non pensavo avesse questo passato vabbè ora è tutta un'altra vita la sua e sta molto meglio quindi direi che possiamo andare allora bestiacce io direi che possiamo chiuderla qui stasera settimana prossima settimana che viene accadranno cose incredibili sconvolgenti che modificheranno per sempre il corso della storia di questo canale tra cui le Horror Night incredibile ci saranno altre Horror Night quindi lunedì si continua come al solito stavolta ragazzi perdonatemi ma Reveal dobbiamo giocarlo probabilmente adesso non so non sono sicuro il giorno ma mi sa che faremo magari più Horror Night per poter incastrare dentro anche Reveal abbiamo quel gioco cooperativo che abbiamo giocato ieri con Andrea che ci ha piaciucchiato parecchio e niente direi direi che ci siamo Garden of Bambanna ci sta fate i bravi fate i buoni noi ci vediamo lunedì alle 21.30 passate un buon weekend digerite sempre tutto ovviamente dovete assolutamente risparmiare tutto e mi raccomando ricordatevi che l'argilla di feci di gatto potrebbe essere la soluzione che state cercando per il vostro problema ahia porco due quindi ragazzi per prima cosa dovete acquistare un gatto per seconda cosa dovete defecare un gatto va bene ok avete cercato su internet avete fatto i compiti avete fatto quello che vi ho chiesto dovevate cercare su internet latte di falena l'avete trovato non l'avete fatto io si si purtroppo ok perfetto importante scrivetemi su telegram voi sab avete telegram ve lo ricordo scrivetevi su telegram i risultati della vostra ricerca spuntato sul microfono voglio sapere di più no non l'ho fatto latte di falena cercate fate bravi fate buoni buonanotte bestiace vi voglio bene ci vediamo lunedì ciao